Punto Pesca, qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente. Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la pesca sportiva, saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore. Inoltre, Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli, vendita e prenotazione esche, vendita online, servizio WhatsApp, ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore. Punto Pesca vi aspetta in Corso Francia 223 a Collegno, provincia di Torino e su www.dapuntopesca.com Ciao ragazzi e bentornati alla Peripesca Live, l'appuntamento che da ora si riprova, tutti in un edibito e la compagnia dalle 21.30 alle 22.30 in quel dei canali YouTube di Sinerdi Pesca e di Punto Pesca. Con il buon Beppe qua questa sera chiacchiereremo su opinioni nostre e chiacchierate varie perché abbiamo deciso per un periodo di fare qualche chiacchierata fra di noi su argomenti misti senza troppi ospiti. Se volete però essere ospitati o avete uno che secondo voi potrebbe essere interessante, lo portatetemi perché non ci abbiamo più buoni. Ho detto questo, vi ricordiamo come sempre che ogni Peripesca viene registrato dal buon Beppe che si fa un mazzo tanto e lo distribuisce nell'universo con i podcast che tra l'altro sono stati anche mandati sulla stazione spaziale Mir, proprio per fargli sentire agli astronauti e fargli ricordare la Terra e la Pesca sulla Terra. Ho detto questo, un saluto al Beppe, buonasera carissimo. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Mi manca come mi sono fatto le chiappe. Sai che devi cominciare dicendo che io mi faccio le chiappe in un modo... Arraggio di luna! Grazie. Per mandarli sulla stazione spaziale, infatti, arraggio di luna. Buonasera a tutti. Pierpaolo, grandissimo! Era da me oggi pomeriggio. Non dormire, Pierpaolo, svegliati. Sera sveglio, che è quattro mesi che non siamo qua. Allora, buonasera, buon Mattia, buon Mattia, buon Mattia, buon Stefano Colella, buon Andrea Caro, abbonato, al nostro Cassini, al Michele Rubinato, che diceva, è Filippo, giusto se mi ricordo bene, ragazzi, se ti ricordiamo i nomi, i sottonomi non è facile. Buonasera, buon Pierpaolo, buonasera, buon Stefano, un buon Landin. Questa sera, l'argomento della serata, Beppe, lo introduce te, o lo introduco io? Allora, in realtà, l'argomento l'hai scelto te, però, provo a introdurlo io. Vai. Ci provo. Clippino, scusa. No, clippino, fino al prossimo ospite, se vuoi ti faccio un clippino così ogni tanto, tanto per gradire. So che era il momento più atteso della serata, però... Che buonasera, Paolo, che Michele Rubinato, Paolo. Tra l'altro, ho visto che siamo tornati, ora puoi legare gli ami. Ciao Fabio Poi. Quindi, diciamo, l'argomento della serata di opinioni pericolose, che se non avete visto la scorsa live, la potete riascoltare sul mio canale, non so sul suo, ma eventualmente tramite podcast sulle migliori piattaforme. Tra l'altro ha avuto un dischetto successo, devo dire la verità, quindi grazie. Stasera parliamo della Cina svelata, quello che gli altri non dicono. Quindi, in realtà, da quello che ho capito, da come me l'ha proposta il buon Nicola, lui dovrebbe difendere la Cina e io dovrei attaccare la Cina. Chiaramente, per quanto riguarda il settore pesca, non è che attacchiamo nessuno, non è che attacchiamo nessuno, non è che adesso ci lanciano i missili su casa mia, a casa sua. Sì, vedi che sono reingrassato, guarda qualche facciona che ho messo su. È una birra, la birra, vedi la birra Princess Brow. È che c'è il capello che mi gonfi. Allora, è inutile, ascolta, è inutile che vai ancora alle 5 del mattina se poi ti sfondi di birra, non è che... Allora, signori, sì, più o meno il concetto è questo, cioè questa sera noi ci dedicheremo a fare una chiacchierata dove mi chiederò fuori tutte quelle cose che ho imparato negli anni nel mondo Cina che magari le aziende non hanno proprio questo grande piacere che si sappiano e tante volte sono i segreti di Polcinella perché sono delle cose che un po' tutti ci immaginiamo che... Però, non tutti a volte vogliamo sapere, quindi vogliamo avere la conoscenza. Abbiamo dall'altra parte però un gestore di negozio ormai da anni che saprà dirci e risponde il mio, le mie critiche e magari appunto dirmi no, questo non è così, questo non è così e così via. Buonasera al nostro grande Samuele Coppe, il nostro grande, buonasera Eugenio, grande, buonasera Eugenio, da quanto tempo, come sta? Siamo qua, semi ubriachi pronti alla serata, buonasera Edoardo Filipponi. Allora, tra l'altro stasera io vorrei sfatare qualche mito riguardo appunto all'acquisto Cina. Ok. Perché girano un sacco di leggende. Allora, io ti dico, con un tuo collega, stiamo ancora ragionando sul fare un video su quell'argomento lì, prendendo tre prodotti molto venduti dal mercato cinese in Italia e vedere l'alternativa Echadana comprata direttamente in negozio. Perché, giustamente, perché lui mi diceva, buongiorno, mi diceva, Nicola, a volte mi sento dire, ho proprio questo tarocino, l'ho pagato 30 euro, l'Italia, l'ho pagato 60, quando anch'io in negozio c'ho cose che per quell'oggetto lì, Equivalente qualità, anch'io ce l'ho a 30 euro, quindi non c'è questa grande più, te lo faccio subito con assistenza piuttosto che... Comunque, allora, stasera si snu... Bravo, hai già toccato il primo tasto. Vedi? Assistenza. Ok, allora, partiamo da questa. Questa sera, ragazzi, una cosa importante, un disclaimer per queste live. Nel buon Beppe stiamo cercando di trovare un nuovo nodo, perché comunque, dopo quasi un anno che facevamo interviste, ci siamo resi conto che la cosa poteva essere anche a volte considerata un pochino monotona. Quindi abbiamo detto, proviamo a inserire dei nuovi format. Uno di questi format è appunto opinioni pericolosi, dove una persona prende le difese e le parti di un punto, di una determinata opinione pericolosa, nel senso che è molto discussa e di solito crea problemi sui social, e l'altro invece la controbatte dall'altro punto di vista. L'altra volta l'abbiamo fatta in maniera un po' goliardica, dove io sono stato messo a difendere la fresatura dei sidure e il buon Beppe invece a proteggerne la specie. Quindi a volte finiamo un po' a destra e a sinistra. Detto questo, invece, stasera sappiamo che io sono quello che negli anni ha anche promosso la Cina tramite alcuni video su YouTube e il buon Beppe dice, ragazzi, è un negoziante. Allora, il nuovo lagomaggio e il leggetto migliore hanno perfettoso spot. Allora, Beppe, io parto con questo. Il vantaggio che ho trovato nel comprare dalla Cina, il primo, è quello che, a parità di qualità, dal mio punto di vista, ho trovato tanti prodotti che costavano meno. Ma è sempre così? A parità di qualità? Allora, bisogna fare una distinzione di base. Premessa, quello che vi dico non è che perché l'ho sognato stanotte, perché sono cose che so, ho parlato direttamente con chi produce e con chi importa e anche con chi fa interlazzi. E dopo ci entriamo in questa parte nascosta del made in Cina o acquisto dalla Cina e sono più furbo. Sono più furbo di chi compra in negozio o dove volete. Buonasera Giuseppe. Ciao Giuseppe. Allora, la differenza sta nel fatto se tu acquisti, come hai fatto tu, che hai acquistato dell'attrezzatura che poi hai rivenduto, quindi tu hai parlato direttamente con chi il prodotto lo produce. Sì. Ok? Che è diverso. Quindi tu, in base alla cifra che vuoi spendere, loro ti propongono un prodotto. Perché un altro mito, falso mito della Cina, che tutto fa schifo quando le cose non ci piacciono, oppure quando qualcosa arriva dalla Cina e costa tanto e si rompe, non è colpa di chi lo produce. È colpa di chi gli ha chiesto di farlo a un prezzo basso e a voi vada a rivendere a un prezzo alto. Quindi bisogna fare distinzione tra chi vende e chi produce. Ok? Cosa succede? Che spesso, quando tu compri sui vari siti tutti conosciamo, un'altra cosa che non sapete è che quello che c'è su quei siti spesso non è la prima scelta. Spesso è lo scarto della produzione. La differenza sta nel fatto del marchio. Cioè, una grande azienda va da un produttore cinese, gli chiede un prodotto, con una cifra. Io voglio spendere X per avere questo prodotto. Chiaramente il produttore ne produce X pezzi. Sappiamo benissimo che adesso, tra l'altro, negli ultimi anni gli standard di produzione anche in Cina sono aumentati. Devono avere determinate caratteristiche. Anche le aziende stesse devono rispettare determinate caratteristiche soprattutto per spedire in Europa. Io parlo per quanto riguarda l'Europa. cosa succede? Che a un certo punto qualche prodotto viene scartato per molti motivi. Alcuni possono essere proprio di difetti del prodotto altri possono essere meno gravi. Non so se vi è mai capitato se nel vostro paese c'era lo spaccio dei pantaloni della carrera una volta qui c'era lo spaccio della carrera no? Tu trovavi su uno scaffale un pantalone da adesso all'epoca c'erano le lire 70.000 lire e lo scaffale con lo stesso pantalone uguale identico a 20-30.000 lire dove c'era il difetto molto visibile quindi magari proprio una riga un difetto proprio nella nella maglia del pantalone altre che magari avevano un difettino piccolino ma che comunque per quanto riguarda la qualità era scartato. Quindi cosa succede? Che quando voi acquistate in quei posti in questi siti tipo Aliexpress può succedere che voi acquistiate un prodotto scartato dalla grossa produzione con un difetto anche abbastanza importante come può essere che invece il difetto è talmente piccolo ma che la produzione lo ha scartato perché chi lo deve commercializzare vuole un prodotto di qualità. La dimostrazione sta nel fatto che probabilmente molti sia chi ci sta guardandosi chi ha già acquistato tante volte hai acquistato un artificiale ad esempio e aveva problemi magari che nella colorazione da un lato era colorato male l'ancoretta era storta oppure che ne so io mancava un occhio no? Però se tu vai in negozio e compri un artificiale e lo paghi nel 99% dei casi mi tengo un 1% perché il problema ci può essere anche in quello che compri nel negozio tu lo apri lo togli dalla scatola e ci vai a pescare. Però è anche in dubbio Beppe che nel mercato di Aliexpress ci sono una serie di brand che non sono faccio una pregunta Aliexpress bisogna saper comprare perché se una persona nel 2023 pensa che ma stiamo sicuri che sia lo scarto o minor ricarico su questo lo teniamo aperto io invece ti dico di sì se dici di no e io invece ti dico di sì perché nota azienda italiana canna da pesca venduta in Italia a 180 euro proposta a me la stessa canna da pesca per la produzione della Definitive Spider a 20 dollari l'azienda italiana la vendeva a 180 euro e io ne prendevo 20 pezzi 20 pezzi ma scusami no 50 pezzi l'azienda italiana ne prende 600-700 1000 pezzi quindi non la paga 20 dollari la paga 10 10-8 dollari perché più o meno quindi lì non mi puoi dire che è lo scarto ora è anche vero che io li andavo come produttore però cioè scusami come grossista in poche parole perché non ero il produttore c'era un produttore io ero il grossista che poi l'azienda italiana e questo fan sono grossiste non sono produttrici ma sono grossiste allora la differenza sta quante teste deve sfarmare un'azienda rispetto a te poi tieni presente che ci devono mangiare anche loro perché è il loro lavoro sicuramente ok tra loro e te che la compri ci sono anch'io ok in più ci devi mettere la quantità di spese di trasporto quindi il trasporto lo sdoganamento la mazzetta spesso e volentieri perché questa cosa qua voi non la sapete ma vi posso assicurare che ogni tanto le aziende devono anche mazzettare per poter caricare sulle navi perché sennò aspettano 7-8 mesi perché gli arrivi la roba questa cosa non ve lo dice nessuno la sta dicendo il beppe di turno ma devono ogni tanto devono anche mazzettare per riuscire a caricare i container sulle navi soprattutto post-covid perché adesso c'è anche quel problema e la differenza sostanziale sta nelle varie teste e devi calcolare una cosa che se io produco questo e io lo produco è normale che se passo direttamente ti faccio pagare 1 euro e 20 1 euro e 50 di spedizione per me io una volta che ci ho messo su il 100% del ricarico perché è il 100% del ricarico io sono a posto nel frattempo di questi qua ne ho anche già venduti 10.000 a tutte le altre aziende quindi onestamente di vendere questo con un ricarico più alto e fartelo pagare a te dall'altra parte del mondo come andrebbe pagato non mi interessa perché io li ho già venduti li ho già venduti al resto del mondo si è proprio di qual è il fatto che si va dal punto di vista del rapporto col consumatore cioè a te ragioni che mi dici io devo far mangiare torte teste però per te mi stai dicendo che io che allora lo compro tale prodotto da una determinata azienda c'è un discorso che una volta mi venne fatto mi dico dobbiamo aiutare le aziende italiane attenzione perché io devo spendere 10 quando lo stesso medesimo prodotto aspettando un mese invece che un giorno mi arriva con un costo che è un quinto perché ora mi spiego non sto parlando delle cani da pesca perché quando parliamo di fishing road di mulinelli e quant'altro io negli ultimi sono partito dalla Cina perché ho un armadio pieno di roba cinese e qui appunto ritorno sulla parentesi che stavo aprendo prima nel 2023 se si pensa di aprire Aliexpress e comprare roba da pesca e fare l'affare avete sbagliato perché per fare l'affare su siti come Aliexpress bisogna prendere prima una serie di sonore inculate tramite queste inculate si cominciano a conoscere determinate aziende serie del settore come l'Airisi che è un rossista come può essere la c'è un ragazzo che fa spoon una piccola azienda giappone cinese che fa spoon fa della roba Jerry Jerry che fa degli spoon meravigliosi che costano il giusto costano 2,50 euro però anche lì vedi uno spoon Jerry da 2,50 euro cioè con 3,50 prende i raptor ragazzi se non mi sbaglio ci sono dei raptor molto validi sui 3,50 beppe negamano però mi sembra ci sono su quella cifra raptor non lo so ma ad esempio Nomura non è che sia molto distante da quella cifra lì quindi capite per quella cifra lì ma lo prende l'Italia non aspetto un mese c'è anche da fare quel giornamento lì però vi sono dei brand e delle aziende in Giappone in Cina dei grossisti perché ripeto non stiamo parlando quando si parla di aziende di pesca sportiva italiana c'è pochissimi prodotti che le aziende sviluppano una maggior parte prendono vanno in Cina fanno il container tutti gli anni e si fanno arrivare il container in Italia dei prodotti che hanno scelto insieme ti dico quando si parla di carne di mulinelli secondo me si deve andare in negozio e sono il primo a dirtelo sono il primo che ha 13 cani da pesca tram comprate almeno 10 online ho delle cani da carp fishing travel perché in Italia i negozi non le tengono perché non ha senso tenerle perché hanno un mercato talmente ristretto e mi confermerei Beppe che cani da carp fishing travel in 5 pezzi ma chi le compra ok c'è questa azienda c'è questa azienda cinese che le fa di molto buone pagate però 120 euro a canna fra acquisto della canna e trasporto d'Italia quindi la qualità la paghi anche in Cina detto questo quello che ti dico è perché io devo pagare un prodotto 5 volte tanto e sto parlando per esempio delle girelle girelle con moschettone ne prendo un pacco da centa da mille e lo pavo 5 ma chi ci fai con mille girelle 5 euro le compro e non le farò più in tutta la mia vita perché devo spendere 4 euro da un'azienda che mi ce ne mette 10 in una bustina questo io mi domando e se c'è una spiegazione sono contento che se ne parli di questa spiegazione però in quell'oggetto io non capisco perché un'azienda me ne fa pagare 10 girelle 5 euro quando ne posso comprare 10.000 alla stessa cifra è quello che voglio dire poi sulle canne da pesca io non ho fiato tu le hai comprate sì e non mi se ne è mai rotta una e non me ne è mai arruginita una ho comprato le ancorine la minute io ne ho comprata tanta ora onestamente per semplicità al di là della spunzionalizzazione capere anche molte cose me le mandano loro però se devo comprare una bustina di ami ragazzi di certo un'azienda ho provato dalla cina ho il negozio che scherpesca qui vicino a casa mia e vado a prendere gli ami della madre va bene capite non sto a farlo io gli snap io che utilizzo in tutti i miei video sono snap che ho comprato tre anni fa dalla cina e dove ho comprato una volta guarda io ti dico a parte il fatto che è il mio lavoro e quindi può essere scontato dirti ah vieni a comprarlo perché sono migliori in realtà invece voglio farti un po' il discorso contrario e vi voglio mettere in guardia dal truffatore e cioè mi spiego in realtà quando tu compri un chilo di girelle e te le tieni lì dieci anni non fai altro adesso se ti va bene che compri la girella buona hai vinto se ti va male hai buttato dieci euro hai capito quello che ti voglio dire però c'è tantissima gente tantissimi miei colleghi che comprano dieci chili di girelle le imbustano ci mettono il nome del negozio e te le vendono e non fanno altro che fare quello che faresti tu comprandoti il chilo di girelle il problema scusami è quello che fa anche l'azienda cioè i rivenditori italiani però l'azienda sì però l'azienda la seleziona cioè non gira la ruota e dice a loro datemi un chilo di girelle che io le imbusto e le vendo a 3 euro e 50 cioè la girella viene selezionata perché tu comunque hai un'immagine da mantenere tu compri da uno che potrebbe darti qualsiasi cosa poi se sei fortunato la compri buona io negli anni ho conosciuto tantissima gente che ha comprato adesso magari sulla girella posso darti ragione perché io in vita mia non ho mai visto rompersi una girella so di girelle che si sono aperte ma su roba da big fish ma stiamo parlando di girelle che costano 6 euro una girella ma è anche vero che hai preso una bestia dall'altra parte che era troppo esagerata rispetto quelle sono cose che possono succedere ma con una carpa con una trota con un bus con un lucio non lo so con i pesci normali che ci muovono le nostre acque io onestamente non ho mai visto rompersi una girella diverso è se parliamo di torsione della girella cioè tu mi assicuri che io compro un chilo di girelle triple per pescare la trota e quella girella mi fa le torsioni e non per colpa della girella dopo un po' mi ritrovo con tutto il filo che mi fa respire può anche darsi che con le girelle che ti vendo io chiuse nella bustina faccia lo stesso problema però qual è la differenza che tu torni da me mi dici guarda queste girelle non girano io prendo le butto via te ne do un'altra nuova tu hai comprato un chilo di girelle e butti via un chilo di girelle oppure ti devi metterli una per una a vedere se girano perché finché parliamo di girella singola ti do ragione non succede niente bene o male in linea di massima girano grazie già parliamo di girella tripla una girella tripla di qualità costa le vedi le girelle buone costano poi ci sono le girelle che costano poco e costano comunque di più di quanto spenderesti tu a comprarle su Aliexpress per carità ma da una girella che costa 2 euro a una girella che costa 3 euro e 50 la differenza la vedi il problema è e ti faccio la domanda quanta gente è capace a capire la differenza tra una girella che funziona e una girella che non funziona cioè il tuo discorso sul prezzo non fa una piega perché tu guardi il prezzo e guardi la quantità ora sei in grado di capire se questa è buona o se questa non è buona? allora io da pescatore di carpa ti dico proprio la verità la girella buona o la girella non buona effettivamente non lo capirei però ti posso dire che da pescatore di carpa non so se conosci i beans i beans sono quegli sganci rapidi fatti a olivetta piccolini solito sono in due pezzi una testa morbida e un gancettino interno passi il filo attraverso vediamo un po' se riusciamo a trovarli così perlomeno facciamo anche capire facciamo anche capire di che prodotto stiamo parlando non parla non potrebbe essere questo non ci riesco a mostrarvi perché poi un altro discorso che puoi aprire di quantità cioè se ne potrebbe fare una live solo di quello sono gli anni l'ignoranza che c'è dietro l'amo uno dice è un amo buca eh sì poi quando ha fatto il pesce della vita no e l'amo vi si apre perché avete speso 10 centesimi per comprare gli ami come ve lo spiegate chi che aveva ragione quello che vendeva la bustina selezionata o quello che aveva venduto un chilo di ami ecco a me mi sono aperti ami di qualsiasi brand ragazzi io tuttora tutti i miei video li sto facendo con gli ami cinesi cioè ma di cosa stiamo parlando cioè gli ami vengono comprati in bancari ma secondo te l'azienda tardità italiana si mette a prova ogni singolo amo se funziona se funziona dai no ogni singolo amo ogni singolo amo no però li seleziona che è diverso anche lei anche lei risi anche lei risi che è un brand cinese lei risi costa un quinto di quanto li paghi in italia dai mi da carpfishing e da un'azienda che li seleziona e te li compri dalla cina ma non li compri da picco pallino il distributore picco pallino capito li compri da un'azienda e li paghi un po' di più però attenzione e torniamo sempre al solito discorso cioè è che se vai a guardare il prezzo cioè se lo fai solo per una questione di prezzo e lì la differenza c'è perché ragazzi si gioca si parla di centesimi non stiamo parlando di euro si parla di centesimi nella produzione e nella distribuzione non stiamo parlando di euro allora guarda questi qua ti dico vedi questi qui questi sganci qua comprati da un noto comprati da un noto brand italiano che con 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 magazzino sull'autostrada per bologna quindi chi vuol capire capisca 5 di questi qui costavano 4,50 mi sembra e alla terza pescata la parte qui la parte questa qui si scoppiava questa piccola parte qua si rompe questa anima qua che è un'anima dove ci va legato il filo si rompeva rompi la volta rompi due volte 5,10,15,20,30 ero spesso in questi bifferini qua che io li adoro purtroppo io pesco solo con questi a un certo punto sai che c'è vado dalle Risi e ne compro vedi un lotto 2,83 euro e ragazzi te ne arrivano 25 pezzi a 2,83 euro senza spedizione e io tuttora li sto usando quindi il brand italiano che li dovrebbe selezionare ha messo sul mercato della merda e io mi è toccata andare a comprare dalla Cina e quindi arrivati dalla Cina sono più validi però come ti dicevo prima non tutte le aziende sono guai naturalmente perché come ho detto all'inizio di questa live per arrivare a comprare da aziende serie ho dovuto prendere incurate non sono il primo che lo dice che io dalla Cina ho preso delle signore incurate guarda che le incurate le prendono anche le aziende perché ti posso garantire che quando abbiamo collaborato la produzione della prima canna d'astorione di Tubertini li abbiamo proprio come negozi abbiamo collaborato proprio nella nella progettazione della canna il prototipo che mi hanno mandato non si spaccava neanche se ci salivi sopra se la sbattevi contro i muri ok quando è arrivata che tu dici arriva dalla Cina l'hai fatta fare in Cina se la compravo lì mi costava meno no hanno proprio sbagliato nel fare la punta e le punte scoppiavano le vette scoppiavano perfetto io ho fatto fare una canna da pesca da un'azienda italiana otto pezzi tutti con lo stesso errore di fabbricazione ma andato in Cina per farne la versione economica che è la Galaxia la prima cosa che mi ha detto l'ingegnere cinesi è questa canna io non te la faccio così perché è un difetto in produzione se ne è accorto il cinese se ne è accorto il cinese l'azienda italiana che è 30-40 anni che fanno cani da pesca non posso dire dove perché ci sono ora con una querela che stiamo c'è bisogno da pagare siamo con gli avvocati ora hanno fatto otto pezzi consegnati il ritardo consegnati male e tutti con lo stesso difetto di fabbrica perché otto pezzi ce no uno sanno io uno sanno ce l'ha Fishing Senpai e tutti gli altri si sono rotti al terzo quarto pentolaggio ma è un'azienda italiana che le produce non che le font si si produce no ma signori allora stiamo parlando di professionisti ok cioè i lavoratori in Cina gli ingegneri in Cina sono professionisti non sono ciarlatani questo è quello che ci hanno fatto voluto ci hanno fatto credere quando ci capita tra le mani qualcosa che fa schifo si ok ma anche Beppe allora loro non sono loro non sono ciarlatani scusate non sono ciarlatani e che chi gli ha commissionato il lavoro gli ha detto di farlo a basso costo che è diverso allora io mi sono fatto fare un preventivo quando eravamo tutti fuati tanto saluto l'altro ragazzi scusami saluto Fabio Pirlera buonasera dei mister Stifler buonasera Giappo Mugrausio si ma non si può tornare a un negozio per una bustina di girelle ci dice secondo me è vero so che dice l'infermiente ogni tanto mi chiamano per la persona poi penso a quante tipo di leghe metalliche useranno per fare le girelle è l'inferno scusa Giseppe invece ci devi tornare se una girella non funziona che problema c'è cioè tu sei entrato in un negozio ti è andato un servizio io te l'avendo chiusa non è che io le apro io mi fido dell'azienda dove le compro a prescindere dall'azienda ok quindi se c'è qualcosa che non funziona tornate in negozio e gli dite questa girella non funziona funziona male può essere che sia un lotto fallato quindi è anche un modo per segnalarlo direttamente all'azienda può essere una bustina può essere una girella io te la cambio a me che non mi cambia la vita capito io non mi sputtano per una girella te la cambio le guardiamo insieme se tutte vanno bene tu hai vinto io ho vinto tutti avevo vinto può capitare cioè non succede mica niente dopo aprirò una prova aprirò una grande parentesi sui negozianti sul discorso Molinelli e qui posso parlare con cognizioni di causa quando il finale di pesca prima di chiudere tornerà a essere Nicola di pesca Nicola di pesca Nicola di pesca avevamo contattato una grossa industria produttrice di Molinelli che produce per tutti i brand a livello globale che vuol dire che sono una fabbrica enorme come Benzai e Weai in Cina ci sono proprio dei quartieri e questa grossa fabbrica produce per un tot una serie di Molinelli che vengono poi attenzione presi dai grossisti per poi distribuirli ad altri grossisti quindi sono proprio il primo passaggio per farti capire Beppe un Molinello costa 2 euro e 50 ma un Molinello che qui in Italia pagheresti 70-80 anche 100 euro non costa 2 euro e 50 perché perché chi ne deve far produrre deve far produrre minimo 6.000 pezzi per ogni per ogni dimensione quindi se deve fare 1.000 2.000 3.000 4.000 6.000 pezzi 6.000 pezzi 6.000 pezzi 6.000 pezzi 6.000 pezzi se non loro non ti accerterò una cosa parlando con i loro rappresentati perché coi cinesi sono persone che se ti comporti in maniera molto educata che spiegano tutto poi ti dicono no che non te lo farò comunque quel pezzo perché comunque 6.000 pezzi non potevo farli ne avevo chiesto di farne 1.500 1.500 1.500 1.500 per fare 6.000 di 4 dimensioni diverse però mi ha detto che la questione che loro per natura ogni nullinello che viene prodotto in Cina viene prodotto schermato ha detto che una cosa che li fa molto sorridere ai cinesi è che gli italiani per risparmiare un po' le aziende italiane gli chiedono di togliere la schermatura cioè di farli senza schermatura perché di base tutti i mulinelli che vengono prodotti all'estero infatti ho dei mulinelli di là c'è uno soprattutto che è un 1000 che poi è stato importato in Italia dalla Mitchell che importato dalla Mitchell non è schermato comprato dalla Cina pagato un terzo è schermato questa cosa per esempio loro non la capiscono cioè perché gli italiani vogliono i mulinelli non schermati questa è una cosa che non so se te come negoziante ne sei a conoscenza o sei magari il motivo per cui le aziende perché al di là del far pagare meno ogni mulinello qualche centesimo non c'è una nostra spiegazione forse perché puoi fare un ricarico maggiore quando poi parli di mulinelli schermati allora sì e no nel senso che in base alla linea di mulinelli che vengono importati e mi spiego se tu come azienda tratti le acque interne in realtà il fatto che sia schermato sarebbe un vantaggio in più ma può anche essere che è una cosa in più che tu fai pagare alla gente che tanto non utilizzerà mai poi dipende sempre dal tipo di schermatura perché se la schermatura è con delle con delle come si dice con delle orca miseria stile pen con le le guaine non le guaine le come si dice porca non mi viene le guarnizioni le guarni bravo esatto se viene schermato con le guarnizioni il mulinello è meno fluido ma è meno fluido perché c'è una guarnizione che blocca giustamente il pezzo e quindi lo fa muovere meno ora una delle cose per ignoranza che il pescatore medio quando prende un mulinello fa lo prende lo fa girare se non gira è impastato io quando ho comprato quelli che giravano quindi in più se calcoli che noi nelle nostre acque per la maggior parte facciamo pesca d'acqua dolce che può essere la trota che può essere la carpa che può essere la bolognese dovrebbe però una domanda che ti faccio noi troppo spesso parliamo di schermatura come qualcosa che necessita il mare ok ma se un mulinello in uno schermato finisce l'acqua dolce si inchioda io sono l'ultimo torrente che ho fatto con Michael io l'ultimo torrente che ho fatto con Michael che eravamo andati a Zambra per fare un video siamo a un certo punto ci sono cascate le canne in acqua in vera lui io con mio mulinellino di Malmacaperland tirata fuori da canna quelle bibiche ha schermato lui col brand che lo sponsorizza il mulinello gli si è inchiodato cioè come è successo a me con un altro brand toscano che mi ha denunciati di fa quante pronunci che avevo preso da un'altra persona che sei denunciati come te da un altro brand toscano eravamo questo mulinello appena comprato caduto in acqua insieme con tutto mi cade tutto praticamente il pod quello cinese tirato fuori bribli 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 caranze night dall'altra parte quello di questa ora rich inchiodata a bestia mi è toccato buttarlo via cioè beh buttarlo via no se fai manutenzione che lo apri la salsedine fa altri danni per carità lì capisce che l'effetto salsedine è un'altra cosa però devi anche capire che ti devi cioè come fai a vendere un mulinello di fascia media e stare su una certa fascia è vero che stiamo parlando appunto di magari di pochi euro no ma parli centesimi è quello che mi disse il cinese rappresentante non mi disse ma io ti parlo nella vendita poi no io ti parlo poi nella vendita però a me è capitato qualcuno che mi dice se tanto io non vado al mare a me del mulinello per pochi euro di differenza di prendere un mulinello che magari avesse anche la schermatura no ma la domanda ma perché beh chi lo compra ma anche chi lo compra perché siamo noi abbiamo ho schermato uno schermato i cinesi non esiste uno schermato se questo non vuol dire da aliexpress che tu lo prenda da 10 euro o che tu lo prenda da 500 euro sono a prescindere schermati perché escono di fabbrica così e quello che si domandava il rappresentante ma perché noi italiani siamo così stavolosi da farci la schermatura per pochi centesimi che non ti va a influire tanto sul prezzo per loro come dici teso qualche guarnizione da mette in più in meno non è come dire 4-5 cuscinetti perché lì si parla di un'azienda che te gli dici il mulinello la forma il materiale quanti i cuscinetti come devi girare quando dove deve essere il cuscinetto se deve essere sull'archetto se deve avere il by tranne certi progetti il mulinello poi hanno già dei modelli pronti che te puoi decidere di modificare o partire da zero quindi per dirti il bro dice per noi mette due guarnizioni o non metterle non capivano proprio perché nel mercato italiano si creava questa cosa perché poi è una cosa italiana cioè scusami tutta la cosa italiana e un po' anche europea questa cosa qua perché in Asia secondo me potrebbe essere che noi siamo più fissati più che quanto il discorso della schermatura della fluidità e purtroppo quando ci sono quelle guarnizioni la fluidità va a perdere e io mi ricordo il problema che ho sempre avuto con i mulinelli della Okuma che secondo me sono mulinelli del buonissimo rapporto qualità prezzo hanno un problema di grasso cioè il grasso Okuma è più denso del grasso che c'è normalmente negli altri mulinelli quindi di conseguenza sì però tu devi capire devi far capire al pescatore che dovevamo allora tu mi puoi credere come pensare che ti voglio prendere per il culo e venderti una roba che gira male e vendertela come se fosse una figata ok quindi anche lì è un po' un discorso che poi se arrivano d'inverno santo Dio col freddo prima che cominciano a partire li vedi che se arrivano d'estate arrivano con la manovella che è sporca di grasso cioè sporca scusa sporca di grasso perché col caldo nel viaggio si è un po' sciolto e quindi sono sporchi i tocchi sono unti perché è unto perché sono arrivati col caldo il grasso che c'è dentro fanno viaggio della madonna ci sono tante cose che la gente purtroppo non sa e quindi prende in mano il mulinello e fa così se fa due giri fa cagare se ne fa quattro è buono lo compro se tu gli metti due guarnizioni e fa mezzo giro allora se tu dici probabilmente ci avessero insegnato già all'epoca di non prendere in considerazione la fluidità del mulinello la qualità del mulinello da quante volte gira oggi non staremmo a parlare di sta roba probabilmente e quello te l'ha insegnato il negocio quello te l'ha insegnato l'azienda come ti ha insegnato che il come si chiama il manico in eva è top di gamma è mega fantastico è meraviglioso quando invece il manico in eva e lì si parla di produttore di carne da pesca vado detto il manico in eva quando si è andato a farlo prodotto in Cina è una merda perché è molto meglio il sughero il sughero proprio anche lì quando si parla di sughero non si parla che tutti i manici in sughero sono uguali manico in sughero ad alta densità costa tre volte tanto quindi quando ti va comprare una carne da pesca che ha umani con sughero rispetto a una che ha umani che neva quella con il manico in eva è più scadente è un materiale più scadente però in Italia te l'hanno fatto passare come il materiale del futuro perché per le aziende costa un terzo poi ci vogliamo raccontare che è vero che è il materiale del futuro no non lo è perché comunque come il sughero fa la muffa come il sughero ci crescono dentro i muschi perché se lo tieni nel lumino ci crescono i muschi come marcisce il sughero però le aziende hanno fatto passare come il materiale del futuro ora scusami che recupero un po' di messaggi che abbiamo una filata di messaggi Gabriele Nicaraglia ci dice un'emica ha perso una trota enorme per colpa di una girena con un moschettone che si è aperta possono anche rimborsartela però una trota di guaggio 5 kg selvatica non la attacchi tutti i giorni certo però qui spesso un'arancia nel favore del nidozio anche dalla girella cinese si può spezzare quindi magra consolazione ma comunque il fatto che ti cambi una girena può essere una consolazione Vitominerva ci dice ci sono aziende come la Zulinoia scusami se ti corrego ma Zulinoia che fanno prodotti vicini ad una qualità di lipponi che spesso mettono in commercio novità che successivamente vengono fatti dai brand allora sì su Zulinoia io conosco il brand conosco anche un rappresentante di Zulinoia la questione che loro producono per alcuni grossisti che li vendono intanto perché ci sono anche su Aliexpress come Daiva non è che i Daiva che trovi su Aliexpress sono finti è semplicemente che i grossisti vanno dalla fabbrica e come li prendiamo di Zulinoiaiai li prendono anche loro poi però e qui si entra su un altro argomento che poi toccheremo è l'assistenza che è molto diversa Giuseppe Grauso ci dice a chi di voi è capitato di andare in un negozio di pesca a non trovare il prezzo sugli articoli e quando chiede il prezzo cercano su internet a quanto è venduto e poi io a questo punto a questa non la sapevo di solito trovo sempre il prezzo attaccato Fabio Pirrero anche con i nostri sono uguali come gli insulini chiede se sono un osso ma viene a lavorare da me che abbiamo bisogno di osso perché tanto di bisogno non vi faccio per dire l'indirizzo è andata bene allora mi ritrovo sotto comunque Giuseppe contattami su Instagram con un direct o se almeno si guarda se c'è di zona Luca Scrocco tanti negozianti ci guadagnano su altre cose nella pesca c'è un mondo ma la minuteria lascia di stare ma io sentendo molti negozianti Beppe poi ti fanno una domanda appena finita di recuperare questo appunto a differenza della qualità maericianico ecco il senso della serata siamo furiosi stiamo lottando su quello siamo siamo un coppici ho provato a far girare un banstale e non gira per niente è leggero furiosi ma leggero decisamente no e basta comunque ragazzi per chi non sapesse un brand di un certo peso allora domanda per Beppe scusami non ho capito una domanda di Luca Scrocco si te la sto per fare quella della minuteria interpretandola molti negozianti mi hanno detto che il grosso del vostro guadagno dell'azienda è sulla minuteria non sulle case da pesca non sui moniani non sul prodotto grosso quanto piuttosto sulla vendita della minuteria per farti capire una volta c'era il mito no il mito io ho dei negozi qui in zona che campano di vendita nei miei cartini perché principalmente la gente tipo i negozi su un negozio sul mare che è aperto adorare molto interessanti per i pescatori e negli ultimi gattini ci manda avanti quasi un negozio perché se dovesse andavanti con le cani da pesca però domanda che ti comunque è vera questa cosa della minuteria allora questa cosa della minuteria è vera semplicemente per un motivo ok Giuseppe allora non campi non puoi campare solo di esche questo è un falso mito ragazzi ve lo dico perché una volta che si rompe il frigo e te ne fai per 300 euro o 400 euro per mettere a posta il frigo delle esche che non è un frigo come quello di casa ma è un frigo fatto apposta e solo il motore fa 300 euro una sonda fa 180 euro le sonde ce ne sono 2 barra 3 quando si rompono due sonde fa 300 euro cambiare le guarnizioni ogni due anni fa 80 euro vi dico che quando si rompe un pezzo di quelli tu sai che per almeno 3-4 mesi non ci hai guadagnato un cazzo sulle esche perché noi sulle esche ci guadagniamo 1 euro 1 euro e 50 e anche se tu vendi un quintale di bigattini e te ne sei fatto per hai guadagnato 200 euro ma devi vendere un quintale di bigattini un quintale e non ti basta campare se vendi un quintale la settimana di bigattini perché con 200 euro ci paghi le bollette del frigo che è sempre acceso del frigo tra l'altro quindi stronzate l'esca ti porta cioè l'esca ti deve portare gente che ti compra altra roba ok quindi il filo l'amo la girella il consumabile ok poi magari ti comprano anche canna e mulinello e canna e tutto quant'altro ma l'esca ti porta il cliente a comprare il consumabile consumabile sono fili ami e girelle e le varie cazzatine che perdi che rompi e cose pasturatori esatto su quello sulla minuteria posso fare una domanda e bebe sui pasturatori ricordamela sulla minuteria perché c'è più c'è più guadagno perché costa meno e se oggi ci ritroviamo che molta attrezzatura da pesca non ha ricevuto molti aumenti e perché purtroppo purtroppo ve li dico purtroppo perché me ne sono accorto anch'io la minuteria è aumentata e mi spiego le aziende per poter ammortizzare i costi di spedizione che ad oggi sono molto aumentati sono anche duplicati in quei casi triplicati per spedire dalla Cina all'Italia cosa devono fare devono caricare i container di parecchia minuteria ok quindi devono fare come la mamma che ti manda il pacco da giù che gli spazi vuoti ci mette il tonno e loro ci mettono la minuteria bravissima bravissima più minuteria c'è nel container meno ricarico c'è sul sul prezzo di vendita dovuta ai rincari e mi spiego un conto è mettere 20 30 centesimi su una busta di girelle dove io ne devo acquistare ogni confezione ne ha 10 ok quindi sono 20 centesimi diviso 10 laumede sotto di 2 euro io se a voi metto 20 centesimi in più sulla girella non vi grava perché se invece di pagare 2 euro e 50 la paghi 2 euro e 70 qualcuno se ne accorge qualcuno non se ne accorge della 2 euro e 70 quei 2 euro se tu li dividi per tutta la minuteria che c'è su un container e non fai quel lavoro lì ti ritrovi che magari sulla canna da pesca ci devi mettere 10 euro 15 euro idem su un mulinello quando tu la vieni a comprare 10 euro 15 euro su una canna la vedi la differenza perché se costava 100 e fa 115 ci cazzo fino a ieri costava 100 ma costa 115 quindi gli aumenti che vedete sulla minuteria sono per spalmare tutto quello che non dovrebbe gravare su una cosa che già costa tanto dove l'azienda ha meno ricarico noi abbiamo meno ricarico nonostante tutti pensino che le canne da pesca se costano 100 euro noi le paghiamo 20 euro e non è così ve lo posso garantire confermo tutto il ricarico che c'è stato post covid perché prima vi posso garantire prima nessuno si è mai lamentato i prezzi delle girelle cioè onestamente o dei liami o dei fili e quant'altro l'aumento che c'è stato sulla minuteria è per spalmare gli aumenti che ci sono stati su canne mulinelli c'è tutto quello che costa diciamo di più spiegato in una questo è stato spiegato tecnicamente in una call di gente che fa marketing e mi ha detto signori per non aumentare di 15 euro quella canna mi ha dovuto aumentare di 20 centesimi le girelle dici cazzo oppure cosa hanno dovuto fare diminuire la quantità di pezzi no hanno optato per scemo più scemo cioè prima 15 pezzi costavano 3 euro adesso scusami 15 pezzi costavano 3 euro adesso 10 pezzi costano 3 euro c'è chi se ne accorge c'è chi non se ne accorge c'è chi dice ok le girelle costano 3 euro le prendo c'è chi guarda dentro e dice cazzo ma poi ce ne sono 10 costano 3 euro poi ce ne sono 15 e costano 3 euro spiegato il nodo grosso c'è chi ve lo dice c'è chi ve lo dice c'è chi non ve lo dice io ve lo sto dicendo il nodo grosso di quello che mi sono accorto beh perché veramente il nodo enorme sull'acquisto dalla Cina poi coneggetemi se sbaglio anche i ragazzi della Schaff è proprio la questione di minuteria perché principalmente quello che viene acquistato dalla Cina sono tantissimo spoon cioè artificiali in genere perché comunque costano veramente poco e lì secondo me ecco il rischio dell'inculata è veramente alto 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 perché nell'artificiale ragazzi stiamo parlando di un oggetto che deve stare bene in acqua perché se non vuota un pesca però anche lì devi imparare piano piano a conoscere i brand come si fa comunque l'artificiale da uno l'artificiale dall'altro quando ti arrivano ballo ti dà solo una qualità ma se sei in grado di valutare una qualità anche lì no faccio un bel regolamento però dicevo quello che è il nodo grosso è che proprio la maggior parte delle persone che acquista l'oncina acquista di materia perché poi si parla di mulinelli e soprattutto di canoni da pisca a meno che non si parli di travel perché è l'unico mercato travel che gira al momento attuale è quello cinese perché in Italia c'è Maver che ha fatto un oggetto lasciamo perdere dimenticabilissimo poi abbiamo Favorit che fa di una roba interessante Rapana che ha fatto un oggetto da collezione che era appunto la countdown in it però di travel qui in Italia veramente forse qualcosa non è una se non ricordo male sì però anche che Martina ha fatto qualcosa di travel ma non è un mercato di gente che viaggia non c'è quasi nulla poi dico al di là di quello cani da pisca comprate da maschina ne sento veramente poco poco uguale per i mulinerdi panieri e per roba del genere non so perché sono oggetti talmente grandi che costerebbero di spedizione lo scopo io parlerei di fili invece eh perché fili fili minuteri e se ne coprata e tinerò tra le altre cose anche questa cosa ti volevo proprio chiedere prima due cose una sui pasturatori perché le aziende non producono più pasturatori Maggot sopra i 90 grammi non si riescono a trovare nei pasturatori Maggot cioè nel pasturatore classico chiuso da bigattino sopra i 90 grammi e non si riescono più a trovare le gabbie di metallo ma si trovano tutte di plastica su quella della plastica e metallo la plastica costa meno che siamo d'accordo e si rompe prima perché quando batte su uno scoglio la plastica si sbriciola mentre la gabbia di metallo e ragazzi la batte 50 volte nello scoglio non la perdi mai cioè non si sbriciola mai ma sui fili io ti dico da pescatore di specialist mi affido ormai da due anni nonostante lo sponsor mi abbia detto trovando il filo mi affido a C-Night ho un 29 di 13 Night mi ci trovo troppo bene poi ho comprato anche il giastron della daiva che lasciamo perdita la cina 2 euro e 50 500 metri ho preso tante inculate però anche lì quando il giastron lo vedo vendere nel negozio di Tagão e sento dire ma è giastron diverso non è giastron diverso Beppe via su invece no 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 invece su questa cosa e infatti volevo sfatare questo mito poi potete credermi non credermi fate cosa volete il portafoglio è il vostro provate non c'è ascoltate giudicate ma tendenzialmente vi consiglio di provare vi siete mai accorti cioè ci avete mai fatto caso che gli unici due brand ufficiali che trovate tipo su Aliexpress sono Daiwa e Shimano di monofili no in generale di qualsiasi di cioè quando tu se tu si a parte qualche oggetto di linea F qualcosa di Colmich che è stato trovato un po' a giro il grossista l'aveva comprato dall'azienda che si vede e lo mandava in Italia però arrivavano le foto tendenzialmente si si solo per i due litri Daiwa e Shimano se fate una ricerca di qualcosa vi trovano cioè non è tutto no brand cioè non è che devi andare sulla fiducia vai sul brand quindi tu cerchi Daiwa cerchi Shimano e tra l'altro giorni è venuto il dubbio però perché se non mi sbaglio il brand è come Mitchell mi sembra che ci siamo però sì ma sarà qualcuno che ha Mitchell non è che non è che loro fanno Mitchell le amici non la fanno lì non credo che la fanno lì no Mitchell fa il rebranding come fanno le aziende italiane esatto e allora la domanda è come dicevi tu non lo stesso prodotto 2,50 euro va in negozio adesso non so quanto costi in negozio quella fa e combinazione combinazione spesso trovate la stessa roba non tutta ma ad esempio a livello di fili ma soprattutto anche a livello di trecciati perché questa cosa a me me l'hanno fatta presente soprattutto sul sul trecciato e che trovate a prezzi delle patate no ma ad esempio pen lì si vede che qualcuno perché pen non la fanno la fanno in cina ma solo perché ragazzi aliexpress è fatto da grossisti esatto quindi c'è il grossiste che importerà la penna e tu troverai la penna perché è andato dalla penna ha preso mille mulinelli e li vende esatto ma su quello è come se lo facessi su ebay o su amazon cambia esattamente poco aliexpress è quello poi di poco è un pen che si va sui 61 euro non è che sia regalato ok io vi posso dire quasi con certezza però vi tengo il beneficio del dubbio e vi lascio il beneficio del dubbio quindi se volete provate ma lo stesso filo che trovate lì non è lo stesso filo di importazione per l'Europa perché quello che è lì è perché è poi come vi facevo l'esempio di prima può essere che vi vada bene come può essere che vi vada male ma sono scarti e lo scarto ma non è uno scarto perché fa schifo decisamente può far schifo passano degli scarti che hanno dei problemi che non hanno passato la qualità lo standard di qualità per l'importazione ad esempio in Italia o in Europa e combinazione qui tornando al discorso del tra virgolette la fregatura la visibilità solo nelle parti perché magari non tutti sanno ma le aziende che producono a livello mondiale non in tutte le nazioni trovate le stesse cose perché per ogni nazione viene selezionato un determinato tipo di attrezzatura perché se funziona di più quella ad un determinato paese viene data una determinata cosa cioè ad esempio Daiwa Italia per l'Italia seleziona un determinato tipo di target di materiale da Daiwa Japan Shimano uguale determinate cose vengono selezionate per il mercato italiano quindi cosa succede che se quei prodotti non passano gli standard che ha deciso diciamo l'importazione per l'Italia vengono messi da parte ma non è che li buttano sono mica idioti perché se loro vendono 200.000 pezzi per l'esportazione e gli avanzano 100 quei 100 finiscono online e spesso e volentieri la visualizzazione viene fatta esclusivamente per la nazione che tratta quel prezzo in modo che tu se vai a fare quella ricerca lo vedi magari se sei da un'altra parte quel prodotto in quel paese non va e loro quel prodotto non lo vedono ma questo è marketing ragazzi non è che mi sto inventando niente tu se vedi un prodotto che già conosci se tu non compri una roba che non conosci solo perché c'è scritto Daiva o solo perché c'è scritto Shimano ma come dici tu lo riconosci perché è un prodotto che hai visto sul tuo mercato sulla tua nazione lo vedi a passo costo e lo compri poi vi ripeto può essere che abbia un filino rovinato ma che comunque il traccetto funzioni senza nessun tipo di problemi come può essere che è una bobina rovinata che magari i primi metri sono buoni poi lo metti sul mulinello e a un certo punto è segnato quello è stato preso a campione non va bene tirano via quel lotto viene tolto perché pensa che ne so io mille metri 300 mila metri di quella di quella treccia in quel tratto erano rovinato quel lotto viene tolto dalla grossa distribuzione quindi all'importazione e viene destinato alla vendita online chissà dove cazzo va a finire quel filo quindi a casa vostra a casa mia e dice vabbè ho speso 2,50 euro ho speso 3 euro fa schifo lo butto però se venite in negozio e c'è un bubù così e ne avete spesi 10 di euro però rompete le balle perché a me in tutto questo discorso per concludere che siamo quasi arrivati alla fine mi dà fastidio quello che pensa che di essere più furbo è solo quello che mi dà noia poi ognuno con i soldi suoi fa quello che vuole se tu vuoi comprare da lì compra da lì ma non venire a vantarti da me che hai comprato da lì e hai fatto l'affare della vita quando come dici tu come quando dici come dici tu prima di fare quell'affare ti sei preso 10 inculate quindi poco solo quello poi su questo dato che l'argomento è ancora enorme perché c'è ancora tutto il discorso dell'assistenza c'è il discorso delle inculate intanto do il suggerimento al buon Eugenio il blade della C-Knight questo è il filo che mi sto trovando bene e vedete comunque non costa 2 euro ma costa 10,32 euro in sconto quindi è un filo che costicchia per essere nel mercato là detto questo siccome l'argomento credo che Beppe abbia ancora tanto spazio per allargarsi lunedì prossimo faremo la seconda parte quindi avrete tutta la settimana ragazzi per prepararvi le domande per prepararvi anche degli esempi per prepararvi tutto perché settimana prossima ci troveremo nuovamente alle 21.30 qua per la Peripesca Live insieme al buon Beppe di Butopesca al buon dottore di cola di itinerario di pesca e ci trovo appunto sempre con i nostri podcast su tutte le maggiori piattaforme siamo tornati siamo tornati alla grande anche se siamo soli spacchiamo i culi vi ringraziamo per aver partecipato ci vediamo settimana prossima dove scopriremo come si sarà fatto le chiappette il buon Beppe questa settimana un bacione a tutti ciao ragazzi ciao buonanotte ciao 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 ciao